Abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento con noi, non lo vedo, dovrei girarmi, Enzo Maiorca. Enzo Maiorca non ha bisogno di presentazioni. Amante del mare, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo un giorno, conoscerlo di persona, andando sulla Rainbow Warrior di Greenpeace a Siracusa e subito è stato amore a prima vista perché condividiamo assieme la stessa amore per il mare, ma vorrei che fosse Enzo Maiorca stesso a dire la sua. E' soltanto una follia quella di cui stiamo parlando oggi, ma è già follia accennarne soltanto perché se un incidente del genere, come già lei ha detto, dovesse benificarsi in Mediterraneo sparirebbero non soltanto il mare, ma anche tutte le popolazioni ribielasche sparirebbero. Il fatto è che bisogna far mente al locale prima di parlare a ciò che potrebbe accadere, però per farciò è necessario che siano i responsabili a parlare, i marinai, la gente di mare, non la montagna. Sì, c'era un problema col collegamento video, quello di cui noi abbiamo bisogno soprattutto è diffondere in questo momento fra la popolazione che non è informata di questi disastri, possibili disastri, ma in ogni caso anche se un disastro non dovesse accadere ci sarà un inquinamento diffuso. Se noi oggi abbiamo nel canale di Sicilia solamente cinque piattaforme, se non erro, con le nuove concessioni tra Eni, l'azienda Eni, tra la Schumberg, tra altre piccole società, tra l'altro a capitale risicatissimo, c'è una società che si era permessa ed aveva anche ottenuto il permesso di ricerca con un capitale sociale di soli 10.000 euro. se non erro, la San Leone Energy, tra l'altro in totale contravvenzione con quanto è previsto in questi casi per chi si appresta a fare delle trivellazioni, dovrebbe avere in ogni caso la capacità economica di poter risarcire eventuali danni e ripristinare lo stato delle cose. quindi il mare si verrà distrutto e il bel mare dove Enzo Maiorca ha fatto le sue immersioni facendo il record che hanno stupito il mondo verrà semplicemente, scomparirà per sempre. Enzo, intanto io approfitto di questa occasione anche per reinvitarti alla protesta che tutto il Movimento 5 Stelle sta organizzando a livello nazionale il giorno 9 novembre, in Sicilia si terrà, parlo della Sicilia, in Sicilia si terrà per esempio a Licata il giorno 9 a partire dalle 10.30 e qui ci sono anche altri attivisti, dalla Basilicata si terrà mi pare la Scanzano Ionico, in Calabria ci saranno altri 4 appuntamenti e quindi da qui a quel momento sarebbe bello se tutti noi ci impegnassimo a diffondere, divulgare al massimo e attenzionare al massimo la cosa fra la popolazione, fra i cittadini. Quindi ringrazio l'intervento, so che il Dottore Macaluso ne voleva fare una domanda diretta. Enzo, adesso ci diamo di tu perché condividiamo questa grande passione, l'invito è veramente quello di venire con noi a fare un'immersione sui resti di Ferdinandea all'inizio dell'estate prossima e anche questo sarà un segnale forte, quindi ti invito veramente ad essere con noi, organizziamo le cose veramente in grande stile perché per noi sarà davvero un onore, ma sarà il segnale forte perché un uomo che ha fatto la storia della subacque, un uomo che ama il mare come te, deve essere presente assieme a noi per difendere questo tratto di mare che è semplicemente unico, quindi è un invito che ti facciamo veramente con grande forza, con grande passione perché è un segnale forte di cui abbiamo veramente bisogno per difendere questo tratto di mare. E io ci sarò, verrò. Ok, e ci immergiamo comunque. Ho tanto piacere. Ok. Allora grazie, grazie a Mallorca. Allora grazie a tutti.